Investimenti per poco più di 2 miliardi di euro, quasi tutti a carico di SAVE, tranne un 15% probabilmente a carico di imprese terze private, porteranno nei prossimi 15 anni l'aeroporto Marco Polo di Tessera a poter gestire un volo al minuto. Venezia rafforzerà il suo status di terzo scalo italiano attraverso interventi che SAVE assicura tutti all'insegna della sostenibilità ambientale, tra cui un doppio ampliamento laterale di circa 100.000 metri quadri del terminal esistente, praticamente un raddoppio, e un adeguamento per un più ampio utilizzo di atterraggio e decollo della seconda pista, oggi prevalentemente usata come via di rullaggio, niente terza pista. Non è che noi siamo dei costruttori che vogliono cementificare a piacere, no. Oggi abbiamo lavorato molto bene e siamo riusciti a garantire la crescita del trasporto aereo senza bisogno di fare la pista. Il continuo aumento di voli porterebbe il Marco Polo alla saturazione nel 2026 con 12 milioni e mezzo di passeggeri. L'intervento è per riuscire a gestire quasi 21 milioni di persone entro il 2037 con circa 50 voli all'ora. Significa ancora di più dare le sposte al territorio che non sono solo di dimensione turistica ma sono anche dimensione di business, di relazioni che il nostro territorio ha. Provanessia che sotto fronte turistico, su fronte turistico abbiamo 73 milioni di presenze turistiche in Veneto, siamo la prima regione d'Italia a 18 miliardi di fatturato, ma poi pensiamo del business che vale circa 180 miliardi di euro all'anno. Nel trasporto aereo SAVE è riuscita a coniugare una crescita equilibrata tra l'aumento dei passeggeri e l'ampliamento delle infrastrutture. Con le crociere sostiene Marchi questo non è successo. Non siamo soddisfatti di come sta andando la BTP e quindi vogliamo portare, che è la responsabile tra l'altro del coordinamento di tutto il traffico delle crociere, e quindi vogliamo portare un contributo più fattivo portando la nostra esperienza. L'ampliamento dell'aeroporto Marco Polo sarà un percorso condiviso col territorio, conclude Marchi. Pochi rapporti invece sembrano esserci col comune di Venezia. A Palazzo Balbi c'è naturalmente il presidente della regione Zaia, ma non c'è il sindaco Brugnaro. SAVE è in causa con Caffarsetti dopo l'aumento della tassa d'imbarco di 2,50 euro a persona deciso dal comune. Quello che il comune prende con la tassa lo perde con la diminuzione dei passeggeri, la somma sarà zero o sotto zero. L'avete detto al comune questo? Non abbiamo avuto modo di parlarne perché io l'ho appreso dai giornali, questo della tassa.